Perché dici che sei un pittore? Mi piace ripingere, devo farlo. Sono sempre stato un pittore, lo so. Perché non so fare nient'altro e mi creda ci ho provato. Tu sei Vincent? Sì, il fratello di Theo. Sono Paul Gauguin. Dobbiamo creare una nuova visione, un nuovo modo di dipingere. Ho passato la mia vita da solo, in una stanza. Vorrei trovare una nuova luce per quadri che non abbiamo mai visto. Dentro di me c'è qualcosa. Non so cosa sia. Vedo ciò che gli altri non vedono. Non lo vedi che questo quadro è sgradevole? Gli abitanti hanno firmato una petizione contro di te. Non vogliono che torni. Sei circondato da persone maligne e ignoranti. Per questo si è tagliato l'orecchio. La sua visione del mondo è spaventosa. Non è così? Sì. Molti dicono che sono pazzo, però... la follia è una benedizione per l'arte. Credi che Dio ti abbia dato il dono della pittura perché tu vive in miseria? Non l'ho mai vista in questo modo. Forse Dio mi fa dipingere per quelli che nasceranno. Dimmi fratello, sono un bravo pittore. Non sei solo bravo, sei il più grande. Volevo tanto condividere quello che vedo. Ora penso solo al mio rapporto con l'eternità. Se amate i film ispirati a storie vere, allora non potete non aver visto Into the Wild, sulla drammatica storia di Christopher McCandless. Oppure Fuga d'Alca, trazza del 79. Poi c'è Schinders List del 93 con Liam Neeson, film davvero toccanti di Spielberg. Oppure la storia dell'inafferrabile furbissimo Frank Abagnale Jr. in prova a prendermi con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Qual è il vostro preferito tratto da una storia vera? Scrivetelo nei commenti qui sotto. E se vi piace la maglietta che indosso, potete trovare dove acquistarla nel link in bio super qui sotto. Ciao da Valeria.